La Champions League è il primo obiettivo dell'Inter e si vede. Per la trasferta di campionato a Bologna, Mancini risparmia quasi tutti gli uomini che serviranno invece per l'assalto al Milan martedì sera. A casa Verona e Stankovic, in panchina Vieri e Martins. Si rivede Coco e in attacco c'è il solo Cruz. E' proprio l'ex bolognese a sbloccare il risultato al quarto minuto. Van der Meyde salta Capuano in maniera forse non del tutto pulita e serve all'argentino una palla da spingere soltanto in rete. Un gol da tre punti. L'importante era vincere oggi. Siamo riusciti a vincere una partita dove sappiamo che Bologna è una squadra importante e che giova bene. Il vantaggio serve a far respirare i nerazzurri, ma dura poco perché la squadra di Mazzone non sta certo a guardare. E al decimo è iglitare a superare Toldo di testa, ma Farina su indicazione del guardaline annulla su presunta posizione irregolare di Bellucci. All'amo viola il giudizio. Carlo Mazzone è incredulo e i suoi si rimboccano subito le maniche. Al quattordicesimo ci prova Locatelli di testa, risponde Cambiasso al trentaduesimo. Nel frattempo ci scappa qualche fallo di troppo e l'arbitro mostra il cartellino giallo molte volte. Alla fine gli ammoniti saranno sei. Mancini riflette e i conti non tornano. E che le cose non vanno come vorrebbe lo dimostra la straordinaria parata di Toldo su un tiro altrettanto bello di Ciro Capuano che di fatto impedisce ai bolognesi di andare a riposo sul pari. Massimo Moratti ha seguito la squadra anche in Emilia. È necessario che capiscano quanto sia delicato questo passaggio, soprattutto in vista della Coppa Campioni. Si ricomincia, Mancini manda a scaldarsi Martins e gli altri, Mazzone pure. Cipriani rileva Locatelli e Magni nervo. Ma è ancora Bellucci a preoccupare Toldo, prima di testa, poi su punizione. Javier Zanetti prende il posto di Chili Gonzales e Martins sostituisce Caragunis. Poi, amoroso, lascia il posto all'oviso. Ma di azioni degne di nota quasi non c'è più traccia, fatta eccezione per un'accelerata di Martins e per un tiro di Magni che spara alto dopo aver superato Materazzi. La partita finisce praticamente qui. Anche se l'infortunio a Materazzi è uscito in barella, a suo posto Miajlovic preoccupa gli interisti e il lunghissimo recupero innervosisce tutti, in tribuna e soprattutto in panchina. Il Bologna è punito. E c'è stato annullato sto gol. Il guardalinea oggi ha voluto inventarsi. Noi che ha inventato. Ha avuto una sottilezza, una finezza, veramente. L'importante è vincere e prendere il campionato con una vittoria. Grazie. Grazie.